no stai cagando no non sto cagando jolly quindi non mi chiamare e hola 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 domox di barrofoso benvenuti in una nuova puntata della pirate craft in nostra compagnia c'è il signor ikimoto gianna c'è il signor giollaccio bella riga e basta signor giollaccio indovina che cosa abbiamo trovato la fortezza del land no abbiamo trovato il galeone della cazzo di ah il gigant house di butter dungeon minchia che figata vorrei ricordare al signor max che è stato messo per volontà mia perchè è in beta questo galeone minchia ragazzi grazie al galeone in beta stai generando mondo a quanto pare sto volando jack sto volando cosa ikimoto indovina dove sono non voglio saperlo sarai mica sulla poppa no invece che sulla poppa non sono assolutamente sulla poppa sulla poppa sulla poppa ahaha una poppa ahaha ikimoto c'è mica un dungeon sott'acqua perchè io vedo una grossa struttura squadrata tra l'altro eh non volevo dire telo però sì l'ho visto anch'io ah ecco è tipo guardando la punta della nave alla tua sinistra no? eh e dove mi sono piazzato io con la mia nave con la tua nave intanto io sono andato qui sopra nella... uno del... no non è l'albero maestro ma è quello di poppa ancora non c'è niente però sto continuando dica devo avvertirvi una cosa perchè ancora non ho fatto la modifica però la... la waila si? ok crasha se andate a guardare un cubo della soul shard quindi lasciate un attimo perdere la soul shard ok eh spinga come? eh non so da un errore stranissimo ho messo la lezione più vecchia della waila non succede quindi boh ecco qui c'è un sacco di TNT eh ok eh la TNT non l'ha usata mia 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 prendiamo un po' di TNT vivi tu mia ok sto togliendo tutta la santa barbara io comunque se vuoi ho un accendino eh no? nooo un accendino su una nave fatta di legno e di... e di... e di TNT esatto e di TNT e di neve eh si buonanotte di neve di neve andate a fare il culo tutti e due qual'è la neve ma? di lana non di neve ha che figata c'è l'ufficio c'è l'ufficio del governatore a prua e di qua che cazzo ci sono? l'ufficio del governatore c'è un letto matrimoniale gigantesco la stanza del capitano la stanza del capitano fate in alto la mano ecco però ci sono due letti matrimoniali quanto è grasso sto capitano signori Kimoto io la ringrazio per aver portato tutti quanti questi viveri ma se non me ne da una parte io continuerò a morire di fame e dove cazzo? la prua la prua la prua verso prua la degli uffici del ma perchè l'ago così tanto? non ha senso lei signora è stata giudicata colpevole per l'uso di streconeria e quindi deve morire mastarda no 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 che cazzo ma pfff grazie mille signori Kimotors oh comunque io e di Kimoto ci siamo buttati su sto galeone come neanche dei quindicenni al ballo di fine anno eh tipo ah è mio no l'ho visto per mai io ci ho messo a leccarne il legname è stato molto bello ci sono delle porte di ferro e dove ci sono delle porte di ferro di solito ci sono cose di valore dove stanno le porte di ferro? coi gardini di fronzo ma che cazzo state dicendo? eh porte di ferro e porte di ferro qua ho un sacco di dinamite tipo ah basta ma che cazzo hai Jolly? ma te c'hai non so ha dinamite dnt cioè roba mia è roba tua va bene da quando sei diventato il dinamitardo del gruppo da quando io non sono più vipervendetta da quando io non sono più vipervendetta vai tu in cima a questo pennone io vado in cima all'albero maestro per vedere se ci sono altre cesto cazzi vari Ichimoto vai su quello dietro io vado su quei anzi no non sono neanche nell'albero maestro quattro alberi sta nave andiamo di qua cioè secondo l'albero maestro gli altri sono alberi a nulli no oddio oh 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 Ichimoto ma perché abbiamo questo mentecato all'interno del server macchina è entrato è entrato ha detto io faccio il pacchetto va bene e tutti quanti ci devi certo ok tutti quanti hanno detto porta in alto la mano se vede il tuo capitano oddio oddio boss vedi con svafalo e scegliere Jolly fantastico non c'è niente qua in cima comunque neanche in cima mi sa l'albero maestro però da questo punto di vista io sono il re del mondo fantastico cazzo oh sta moda è meravigliosa che cazzo di galeone eh ma è gigantesco dobbiamo trovare la moda eh Ichimoto dico il limite per eh il come si chiama per i blocchi dell'Archimedeships abbiamo appena scoperto abbiamo appena appurato che è 2048 esatto madonna stavo per cadere giù sarebbe stato un voletto mica male no perchè server shutting down perchè me ne vado perchè madonna jolly ma che cazzo fai stiamo registrando i jolly eh vabbè guarda che problema c'è ma quanto sei coglione l'hai scritto l'ha scritto da server stai veramente per chiudere il server l'ha scritto da server l'ha scritto dalla console del server sembra che l'havia scritto il server ma invece l'ha scritto lui della console ho capito quindi jolly sei strozzo comunque eh 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 cosa stavo pensando se noi facciamo un eh eh sì un simpatico coso perchè lagga così tanto cristo veramente cioè sono a 5 fps perchè d'attacassi stava è buggato il server no c'era uno zombie che mi attacca da lontano non capisco come ok sto per morire sto per morire sto per morire sto per morire è soffocato all'interno di un prés eh guarda dove sono dove sono io tu sei uno stronzo cheiter lo sai haheh кра il io rifiuto di capire che la torta brucia ossigeno la città di strada è normale che acqua aspetta un attimo tra l'altro io può essere che ho visto la torcia di redstone poco più avanti si e dell'altra parte stavo scendendo io prima però facciamo prima passare di là aspetta un attimo non abbiamo delle tenute da sub qualcosa cristo il te il dio le più so no non è una torcia di redstone è una torcia normale che infatti raggiungeremo perché l'ago? spiegami perché sto lacando perché sto spawnando della gente sulla nave c'è un creeper due schelet e un enderman stai scherzando? no questo è perché la nave è buia immagino no? eh si si rende necessario andare a dormire adesso mi lancio giù dal galeone vado nella mia nave e dormo ah però siamo in in tre deve dormire anche jolly no non c'è bisogno si deve essere meno di cinquanta ah quella là è la tua perché c'è la eh posso dormire in due quella là allora aspetta un attimino quella no è spawnato un cazzo di scheletro sopra la mia nave ma puttana miseria dimmi te se devo essere abbordato anche dai non morti leati che motoDown 3 stiamo falculo troia questa è la fine che fanno gli abbordatoriї clandestini d'ora di cazzo non ho un blu ma non è un blu adesso mamma mia quanto sto laggando a roschetto tra l'altro ok arma bianca alla mano aiuto non riesco a combattere con 4 fps sto combattendo il nulla per carlacca ecco la mia sto cercando di o io ti giuro che non so cosa sta succedendo è morto morto adesso perchè ho 3 fps non è possibile e si rientra io ne ho 40 ma aspetta e se tu ricominciare di stare ti consiglio di guardare verso l'alto poi cadranno mob cadranno mob io sono arrivato comunque alla prua della nave e io sono sto combattendo sulle vele praticamente tanto 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 cazzo la data tattata perchè c'è una scena il suddivo acchi 6 8 ultimi pericolò ecco la ciao che figo è stata in un po' di pulizia razziale razzista figlio di troia chi io perchè cosa ho fatto non te ma si sa che la salle bronte ti seguo con un'armo molto poco piratesca ma non metterà se il regno cazzo a che figlio di troia aia cunf no 8 secca di tifo in mani se lo so porca puttana buonissimo o il dvd e poi morire cazzo l'ho ucciso cazzo da una parte all'altra delle vere ancora uno vicino a c'è qua max dove ci vediamo di passare quando sono io assi e togli due pezzi di legno che avevo messo ah si li ho visti pum quello la splat ma guarda questo che verrà affettato da me croc bene ringraziamo il signor scheletro per la testa esattamente anche a me ha sbloccato un cappellino tipo ok io scegno la testa no la testa proprio la testa di scheletro intendevo la testa di cazzo no mamma mia che dolore alle rotule signori kimoto c'ho i polpacci che hanno smesso di funzionare chissà perchè adesso mi arriva una frezza random e penso che tiro una di quelle bestemmie no c'è un c'è uno zombie qui vicino a noi però non vedo di preciso dove allora io torno sulla mia nave e dormo ottima scelta ecco così magari smette anche di piovere sulla mia barca magari non sulla mia nave ma insomma blocca i e eccoci qua ok sto dormendo stai dormendo sto forse dormendo soldato palladinardo che cazzo dormite e io come faccio davvero non c'ho un letto e spacca due pezzi tre pezzi di legno e tre pezzi di lana non sarà difficile un vegliero composto di legno e lana no? eh ma mi hai cazzato perché te l'ho messo due pezzi di legno prima anche tu hai ragione Ikimoto ma non contraddire il tuo capitale ma che cazzo dai coglioni e sto spaccando la lana aspetta un attimo che falle Ikimoto ci sei? ci sei? eh devo piassare la lana che fico che sei con la cosa della translocator che bravo dai dai dormi dai e sto andando a dormire Ikimoto uh Ikimoto is now sleeping e ping good morning everyone yes però non smette di piovere non smette di piovere dico aspetta si asmetto di piovere asmetto di piovere asmetto asmetto comunque qua c'era anche una crafting table così per gradire eh cosa dove quando? dico che qua avevo anche montato una crafting quindi no tu avevi solo montato e basta eh no ve lo dire eh eh come è stata tua sorella Jolly? eh ok ok quindi bisogna praticamente trovare il modo di scendere giusto? e il modo di scendere io ce l'avrei basta bucare il problema è respirare sott'acqua esatto quindi allora perché non sai respirare sott'acqua? quindi le cose sono due o svuotiamo questo cazzo di posto eh che mi sembra quanto improponibile improponibile oppure demoliamo questa cazzo di nave a colpi di TNT eh no la seconda la seconda la seconda la seconda grazie per la sua partecipazione allora eh cazzo ok un attimino ok vi spiego rapidamente la situazione dunque in pratica io e il signore Kimoto abbiamo esplorato abbastanza di quella nave e abbiamo convenuto che in effetti non ci fosse granché da razziare non c'era uno spawner non c'era niente di particolare però ci siamo trovati col problema di non poter esplorare le cavità inferiore di quella nave che a quanto pare erano completamente piene di eh di roba eh però nonostante non sia una cosa diciamo così figa dal punto di vista esplorativo potrebbe essere una cosa figa dal punto di vista abitativo non so ancora se riuscirò a farne la mia abitazione ma si rende necessario svuotare quel cazzo di posto prima da ogni cosa che contenga eh acquaticamente parlando ora il signor Giollaccio ha portato alla mia attenzione un fatto particolare tutti quanti quei blocchi di di acqua all'interno della nave sono blocchi sorgente e i blocchi sorgente si possono rimuovere con questo cazzo di item dell'open block che prevede un cazzo di cubetto di lana con una slime ball di cui effettivamente in questo momento sono sprovvisto cioè non di lana della slime ball intendo e quindi adesso io adesso faccio un salto da Ikimoto per vedere se effettivamente lui ha eh wool ok per vedere se lui intanto facciamo una random chest una ecco la random chest z eccolo qua e prendiamo solamente le cose di effettiva utilità che potrebbero essere queste questa questa tnt no la barca si che non si sa mai l'elmo si il passenger no la chisel no questa si questa si e questa si per vedere praticamente di iniziare all'interno della della nave un'opera di svuotaggio per vedere se effettivamente se ne può fare qualcosa alla più sporca dato che io non ho contato effettivamente i blocchetti di cui è composta quella nave potrei addirittura pensare di svuotarne completamente la chiglia internamente per no la chiglia la chiglia è penso solamente lo strato esterno diciamo lo scafo allora lo scafo internamente rialzarlo di qualche blocco in maniera tale che peschi molto di meno per chi non lo sappia in gergo nautico pescare in pratica vuol dire quanta nave emerge dall'acqua ok e dato che quella nave pesca un casino nel senso che è che è sommersa per più o meno la metà dello scafo è effettivamente problematico e aumenta i blocchi in maniera spaventosa una volta insomma che l'avrò svuotata un po' potrei pensare di muoverla se le vele non prendono più di 2000 blocchi ma anche questo sarà da contare perché io non riesco maledetto Ikimoto se è trovato un'altra nave per questa cosa ma che cazzo è successo ah c'è qualcosa che non va che co forse Ikimoto ha avuto la stessa idea della spugna chissà però spero di non aver spoilerato niente Ikimoto adesso andrò la testa bassa allora per evitare di spoilerare qualunque cosa all'interno della ecco vedete ecco io non so cos'è sta roba allora per evitare di spoilerare qualunque cosa in casa del signor Ikimoto adesso pauso la registrazione andate a vedere i suoi video per sapere che cazzo sta combinando in casa sua ci sentiamo appena possibile ci sono passato a parlare della parola ecco questo è jolly a tra pochissimo ok il signor Ikimoto aveva effettivamente una slime ball che gli abbiamo fottuto proditoriamente che abbiamo unito a un pezzetto di lana e con la quale abbiamo effettivamente craftato un pezzo di spugna con la uno spugna tra 3 e 2 cazzo il signor Ikimoto ha quasi sicuramente fatto una spugna e l'ha utilizzata perché questa cioè wow piuttosto antiestetico e piuttosto tremendo come utilizzo cioè praticamente è una specie di bomba che leva via che leva via tutti quanti i blocchi sorgenti in una certa zona buongiorno signor Chocobo salve non avevo niente di particolare da dirle scusi se l'ho disturbata ok torno un attimo al galeone di qui sopra e la prossima volta che ci sentiamo sarà con me che voglio quel cappello con il salice piangente scusate devo averlo perché il mio amore per la botanica pum è triet ma pensate un po' voi che cazzo levati dal ok dicevo la prossima volta che mi vedrete sarà io che sto svuotando la insomma quella cazzo di nave lì ok a tra pochissimo certo che di notte è ancora più maestoso sto cazzo di veliero guardate che meraviglia probabilmente sono molti più di 2000 eroti blocchetti però insomma devo farci qualcosa con sta nave ecco ne reclamo il possesso in qualche maniera sperando che Ichimoto non rompa troppo le palle se ne troverà un altro eh Ichimoto Ichimoto viene di notte e infatti io adesso dormo perché non posso stare qua a bighellonare dai dormi ok assalto alla dauntless pluff vediamo un po' e rompiamo qui anzi abbiamo un'ascia scusa subisce il dirà della tecnica e bloc bene vediamo un po' se funziona questa cosa sboom cazzo se funziona bene comincia l'opera di svuotaggio della dauntless a tra poco ok la coperta della dauntless è praticamente vuota l'ho praticamente completamente svuotata dall'acqua sto ancora facendo un paio di avanti e indietro con questa cazzo di spugna che si sta rivelando di un'utilità imbarazzante devo consegnare a Jolly una una margheritina per tutto quanto il suo prezioso consiglio per chi non lo sapesse ma insomma penso che siate proprio in due rimasti tra i miei iscritti che non sanno chi sia Jolly Jolly è uno dei dieci componenti della Geek Battery pubblicizzati e presentati nel video che sta in presentazione di questo stesso canale quindi se non sapete chi sia andatevelo a vedere perché è lui che mi ha dato questa questo suggerimento di questa cazzo di spugna l'altro invece che era con me nella prima parte di questa registrazione è il signor Ikimoto che dovreste aver già visto in molti altri video e anche lui con il canale che bla 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 ripeto sempre la stessa identica cosa tra l'altro ora che mi viene in mente mentre svuotavo tutto quanto sto popò di roba che fidatevi non è stata poca ho trovato una piccola apertura che non ho idea se fosse naturale naturale insomma che non ho idea se facesse parte di base di questa cazzo di barca o se fosse opera del signor Ikimoto adesso ve la mostro no minchia ragazzi oddio cos'è successo mi sa che ho fatto un disastro imbarchiamo acqua signor comandante che cazzo ah tra l'altro mi ha anche spaccato che merda ma vuoi togliere sta acqua in eccesso maledizione oh bisogna stare attenti con le sorgenti d'acqua pam porca puttana adesso capisco perché l'aiutante di Capitanoncino si chiama Spugna perché probabilmente anche lui si è trovato in una situazione del genere e avendo risolto lui i problemi interni di inondazione con questo oggetto della open blocks gli è valso questo soprannome grazie per la torcetta qui continuano ad esserci delle pozzanghere vabbè chi se ne frega vi faccio vedere quella cazzo di apertura e chiudo la registrazione che non riesco cazzo ok e oddio no non è quello che penso vero e invece è proprio quello che penso un creeper sulla mia nave yar oh 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 si fantastico ah 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 che cazzo di spada era questa still ancora pochi usi ma meglio che niente tra l'altro ok e qui ne metto una che non vorrei mai che nascesse qualche cosa di brutto allora entriamo così pluf e questo deve essere il sottocoperta chissà se è da qua che è entrato Ikimoto non si riesce bene a stabilire cazzo che lunga che ce l'abbiamo bene signori direi che per questo episodio è tutto quindi io vi saluto almeno per questa cosa qua tento di riprendere le registrazioni nel prossimo episodio quando avrò già fatto questo lavoro di svuotaggio della nave ma se ci sono delle novità contingenti non esiterò a rendervi partecipi delle stesse vi invito di nuovo ad iscrivervi a tutti quanti i canali dei componenti della Geek Battery che trovate in descrizione vi invito se vi è piaciuto e se volete darmi un vostro parere insomma su questo video di mettere un mi piace o di scrivere nei commenti che effettivamente vi è piaciuto oppure se c'è qualcosa che è migliorabile bla 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 se volete essere sempre aggiornati con i video dei Berro Stronzo di cui io sono il solo rappresentante in assenza del pillo di iscrivervi a questo canale e considerato che null'altro è rimasto da dire da Raiden dei Berro Fronzo adios a tutti aia Cristo grazie a tutti grazie a tutti